Oggi siamo qui con tanti giovani che provano le bike, quindi è un'esperienza che ho sentito che è stata veramente positiva per loro. Abbiamo il pulmino elettrico che gira e porta in giro le persone per l'anzo e questo credo che dimostri una particolare attenzione, una voglia di utilizzare mezzi e trasporti che siano ecosostenibili e per l'ambiente siano compatibili. MobileLive è un progetto sperimentale composto con alcuni panel che collaborano in questo progetto. L'obiettivo principale è quello di sperimentare delle attività e dei servizi alla persona con questo modo di fruizione di strumenti, con questa tipologia di strumenti, quindi con mezzi elettrici che consentono la mobilità sul territorio con questo sistema. Noi a breve faremo partire un progetto che si chiama Sette Sì, che in piemontese vuol dire Siediti Qui, non solo bici elettriche, anche trasporto, come dicevo, programmato e coordinato tra pubblico e privato, dove abbiamo dei partner privati che si sono presi disponibili a sperimentare questo trasporto, questo modo di spostare la gente nelle valli con difficoltà che effettivamente ci sono e che contiamo con questo sistema piano piano di compensare e di riuscire a gestire per migliorare la fruizione e la mobilità nelle valli. Grazie.